Allora signori, è scattata l'ora solare, oggi siamo particolarmente contenti perché vogliamo parlare di quegli attori, anzi oggi parleremo di due attori partendo da un attore, quegli attori che hanno accompagnato la nostra vita, larghissima parte della nostra vita, hanno accompagnato la vostra, se siete ragazzi un po' più grandi, magari trannati tra gli anni 30 e 40 e sono materia di studio per chiunque voglia amare veramente il cinema, lui era bellissimo ed era, cito volentieri i miei genitori, innanzitutto un uomo per bene, così sono stata cresciuta io parlando di Amedeo Nazari e noi oggi abbiamo una grandissima parte, un uomo e un uomo Nazari, sua figlia, grazie, scrittrice, attrice, persona per bene, persona splendida, guardatelo un po', scusate, bello come, voglio dire, bello come il sole, professor Melelli, Fabio Melelli, bentornato, bentrovato, grazie, buongiorno, si è artistico anche tempo fa, critico cinematografico, giornalista, scrittore, sceneggiatore, docente di cinema italiano nel mondo all'Università degli Stranieri di Perugia, signora cattedra e di storia del cinema, ovviamente del video, l'Accademia di Belle Arti di Perugia, Amedeo Nazari, papà, papà che di cognome, perché è Maria Evelina Buffa, io mi chiamo Buffa, sui documenti sono Buffa, nella vita pure qualche volta, nella vita qualche volta è un dono, in arte Nazari, perché insomma ha portato fortuna a lui, che poi era il cognome di mia nonna, di sua madre che era veneta, suo padre era sardo e lui a un certo punto cambiò giustamente, perché insomma suona meglio, suonava meglio, e Amedeo Nazari era suo nonno, esisteva un Amedeo Nazari? Esatto, esisteva, quello vero, era il padre di sua madre e si chiamava Amedeo Nazari, era più autentico lui. Era più autentico, Amedeo Nazari, professor Melelli, amato, adorato, siamo a un sondaggio nella trasmissione Flash di Mike Bongiorno, corre l'anno 1982, Amedeo Nazari purtroppo era già scomparso da tre anni, questo sondaggio lo incorona come l'attore che incarna il vero ideale di uomo, noi sottoscriviamo, perché piaceva così tanto? Ma credo che fosse veramente un divo senza tempo, se uno pensa che già in una famosa rivista che si chiamava Cinema venne fatto un referendum tra il 39 e il 40 e venne chiesto ai lettori di scegliere quale fosse l'attore più importante del cinema italiano, stravinse Amedeo Nazari, quindi già in quello scorcio finale degli anni 30 era il numero uno del cinema italiano e lo sarà tanto bene anche dieci anni dopo all'epoca di Catene, aveva qualcosa appunto che sfuggiva un po' alle mode, forse perché era sostanzialmente fedele a se stesso. Alessandro Blasetti ha colto credo un po' una particolarità che rendeva unico Amedeo Nazari, ovvero la sincerità, era un attore in qualche modo che faceva arrivare al pubblico la sincerità del personaggio. Questo naturalmente era qualcosa anche di estremamente raffinato perché poi, lo diremo, Nazari viene da tantissimo teatro prima di arrivare al cinema. Allora, stiamo per arrivare al primo film che vogliamo farvi vedere. Evelina, un uomo che non ha mai rincorso il suo lavoro oltre il lavoro stesso, cioè lui faceva, lui era quei personaggi, li preparava in un modo straordinario, i film facevano un successo clamoroso, ma lui era un uomo riservato. Molto, sì, molto riservato. A questo riguarda soprattutto la fine della sua carriera perché appunto era conosciuto, amato dai registi, lo chiamavano, fermato per strada, non si poteva fare una passeggiata, era insomma, era proprio popolare. Negli ultimi anni ha lavorato meno e mia madre, come racconto tra l'altro nel libro che ho scritto, lo spingeva perché lui era Orso e lui giustamente diceva, ma mi conoscono se vogliono, mi chiamano. Lei diceva, non funziona più così, devi... Sembra un film nel film, quello che stai raccontando. Esatto, devi stare in mezzo alla gente, ai tuoi, diciamo, ai produttori, ai registi, perché sennò ti dimenticano e infatti avevano ragione e torto tutte e due. Ragione e torto tutti e due, quello che è sicuro è che primo film, Cavalleria, arriviamo anche a questo film, nel 1936, nel 1938 esce un film bellissimo, Luciano, Serra, Pilota, guardatelo, Amedeo Nazari, quanto è bravo, quanto è vero. Bisogna stare attenti papà, perché se ci vede il nonno montarsi il prato, ci sgrida. Terribile il nonno. Figura di Grieri mi ha lasciato senza dolce, perché a tavola ho detto, uffa che barba. Perché hai detto, uffa che barba? Ma sì, non si può ridere, non si può parlare forte, non si può mangiare la frutta con le mani. Ma perché tu a tavola mangerai la frutta con il coltello e la forchetta, poi vieni in giardino e la mangi con le mani, eh? Però devi dare retta al nonno, perché è buono e ti vuol bene. E adesso al vino parliamo di cose serie. Sono venuto qui per abbraccarti forte e forte, per dirti che dovessi andare via. Ma papà, che dici? Ma no, per un po' di tempo soltanto. Ma non neanche per un po', oh mio Dio. Tu sei un ometto e non devi piangere. Devi pensare che il tuo papà deve guadagnare tanti soldi per te, per la bamba. E se no, come si farà? Certe cose tu non puoi capirle. Ma devi pensare che il tuo paparino non vive che per te. Tu sarai buono e lo aspetterai. Va bene? Un aviatore che piange. Un aviatore che piange. Esatto, quando si parla di questo film appunto di propaganda, sì in parte lo era ovviamente. È un film bellissimo. È un film bellissimo e lui è tenero come il regime, in realtà non richiedeva dall'uomo italiano che doveva essere. E non era ancora papà, perché diventerà papà. E non è molto più tardi. Diventerà papà più tardi. Fabio Menelli, era l'eroe in questo film che, e la trama è straordinaria, quell'abbraccio padre-figlio ci sarà fino alla fine. Sarà passato un po' di tempo, ma ci sarà fino alla fine. Questo film regala a Nazari una formidabile popolarità. Un grande legame con Anna Magnani, una grande stima con Anna Magnani. È la Magnani che lo vuole per prima in un film? Sì, è Anna Magnani, perché all'epoca la Magnani era moglie di uno dei più importanti registi del cinema italiano, che si chiamava Goffredo Alessandrini. Che è nel regista, certo. Che lo vuole per Cavalleria. Tra l'altro in questo film è vero che effettivamente lui è l'eroe bello, buono, onesso, generoso, però questo personaggio è un personaggio che ha anche una grande sofferenza interna. E la cosa che trovo straordinaria è anche che Nazari in questo film ha praticamente 30 anni. Ma di fatto nella seconda parte diventa il padre di un attore che ha appena 8 anni meno di lui, che è Roberto Villa. Quindi noi siamo di fronte a una sorta di Peter Sellers, come dire, cioè di qualcuno che riesce a mutarsi anche attraverso l'età. Virgolette invecchiare, essendo giovane. Grande, grandissima attore. Evelina Nazari, che tra le altre cose scrive anche benissimo, ha scritto questo libro, Memorie a Brandelli. Ed è un libro carico di tutto, Evelina. C'è bisogno, no, a un certo punto? Sì, di ricompattare. Insomma, questo libro nasce per tanti motivi. Io facevo un trasloco, dovevo in un momento particolarmente difficile e doloroso della mia vita, in più avevo pure il trasloco. dovevo, diciamo, dovevo ridurre, perché passavo da una casa più grande a più piccola. E da lì anche il fatto di voler parlare di mia madre, che è stata molto importante nella mia vita. Insomma, tutta una serie di cose. Alla fine mi sono ritrovata a raccontare di tutta la famiglia, anche dei trisavoli che non avevo mai conosciuto. Mi interessava molto questa idea della memoria. La memoria non è una cosa, non è la verità. La memoria è qualcosa che si trasforma, perché oralmente vengono raccontate delle storie, che diventano un'altra cosa. A me interessava proprio raccontare quella cosa, cioè come erano arrivate a me certe storie. Non volevo capire se erano la realtà, ma proprio restituirle come mi erano arrivate. Così come sono. E anche la cosa che mi è sempre molto piaciuta è il fatto che ti approprii della memoria anche degli altri. Allora, Evelina, ti fermo su questo punto, solo perché ci dobbiamo interrompere, ma riprendiamo dall'appropriarsi della memoria anche degli altri. Intanto c'è questa memoria. Lei sarebbe diventata una splendida attrice, lui era lo splendido attore. Guardate questa foto. Padre, figlia, Amidea Nazari, Evelina Nazari. A lui dedichiamo con infinito amore, anche ad Evelina, questa puntata. Ci vediamo tra un attimo. Bene. Amedeo, Amedeo Nazari, grande, unico, inimitabile, formidabile, con Evelina Nazari, sua figlia, che ringraziamo tantissimo. Attrice, scrittrice, quella bambina lì, quella lì, quella lì che vedete in foto, con Fabio Melelli, critico cinematografico, giornalista, scrittore, sceneggiatore e professore di cinema. Allora, appropriarsi della memoria di tutti, in questo tuo libro, Memoria Brandelli. Ecco, quel papà, quel papà che diventa papà da grande, oggi sarebbe assolutamente normale, però diventa papà a 50 anni, Amedeo. A 50 anni. Sì, un papà che aveva vissuto la prima guerra mondiale, insomma, quindi faceva anche un po' effetto. ed era abbastanza raro allora, però mia madre era molto più giovane e quindi, insomma, in realtà era più aperto lui. Lui era un papà che ti viziava? Molto, sì. Se non ci fosse stata mia madre, sarei finita malissimo. Allora, perché lui proprio era le coccole. Cioè, qualsiasi cosa. Sì, proprio non... Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, invece mia madre teneva le redini, per fortuna, dico, in un certo senso. E appunto ho scritto anche questo libro perché avevo, ho avuto un rapporto molto difficile con mia madre, che era estremamente severa, però l'ho tanto rivalutata, ho capito, purtroppo non c'era più, quanto la sua vita fosse stata difficile, quanto non avrebbe potuto essere una madre migliore. E quindi ho fatto pace anche con lei. Allora, molto spesso, sto guardando questa foto, perché si capisce perché Evelina sia così bella, perché guardateli tutti e due, papà e mamma sono di una bellezza cinematografica, entrambi stupendi. È vero, si fa pace molto spesso quando noi diventiamo i genitori dei nostri genitori. Non li abbiamo più, ma capiamo... Molte cose, sì. Molte più cose. Professor Melelli, una gavetta a teatro, e qui c'è un episodio legato a Luigi Pirandello, lui, quello, proprio, Luigi Pirandello, quello, che è straordinaria e che riguarda Medeo Nazari, quel fare teatro che poi portava molti di questi attori, quelli con più talento, a diventare strepitosamente bravi al cinema. Anche perché all'epoca il teatro era una palestra assoluta, esistevano le compagnie di giro, quindi praticamente i giovani attori, come Medeo Nazari, quando inizia, dovevano imparare delle parti a memoria. È vero che c'era il suggeritore, però questa era una scuola che li rendeva abili poi a diventare qualsiasi cosa, perché se noi guardiamo la filmografia di Nazarici, prendiamo conto che in realtà lui è stato tutto, è stato il cavatore di marmo, nelle Alpi Apuane, però è stato anche il faraone, di Nefertite, Regina del Nilo, cioè voglio dire... la cena delle beffe, il processo alla città, ovvero era un attore che sapeva continuamente trasformarsi e non è neanche vero come spesso si dice che lui fosse un po' legato a una sorta di modello che reiterava. Perché ha fatto un po' di tutto, alla fine, portando la sua personalità. Sentite questa, se voi non volete addormentarvi, perché siete particolarmente concentrati, prendete i vostri piedi, metteteli in una tinozzo, in una vasca va bene con l'acqua fredda e starete svegli per tutta la notte. E questo è l'episodio che papà racconta nel suo incontrare Luigi Pirandello. Lui faceva parte della compagnia di Pirandello, Marta Abba, cioè si ammalò un attore e Pirandello gli chiese di sostituirlo, ma questo in una notte, nel senso che il giorno dopo lui doveva debuttare e quindi rimase tutta la notte per imparare la parte che insomma voglio dire era una parte evidentemente anche sostanziosa e il giorno dopo, la sera dopo, Pirandello lo guardava da una quinta e quando papà uscì di scena, Pirandello lo raggiunse dietro al palcoscenico, gli diede 500 lire e gli disse farà una grande carriera. Ma che meraviglia! Ed è una cosa bellissima! Ma che meraviglia! Che incontro al vertice! Sì, veramente... Che splendore! E ho ritrovato addirittura un trafiletto dell'autista di Pirandello che racconta che il maestro aveva chiesto di portarlo al cinema a vedere Cavalleria perché questo attore giovane era stato un suo attore e lui lo voleva seguire anche al cinema quindi è molto... Signori, preparatevi allora! Luigi Pirandello stiamo guardando, Amedeo Nazari, Alberto Lattuada 1946 il film è Il Bandito Bellissimo È uno dei miei preferiti E... Nasso d'Argento come miglior attore protagonista e io scrivo sotto e ci credo guardate Amedeo Nazari Ero anch'io un uomo buono e onesto Anch'io avevo tanta fiducia nella vita e tante speranze ma non sospettavo quanto crudele sarebbe stato il mio destino Ritornavo dalla guerra per ricominciare a vivere in un mondo che credevo migliore Ma le speranze cadero ben presto Intorno a me non vedevo che rovine morte e corruzione fino a che fino a che non ci fu più scampo La giustizia vogli farla da me contro tutti senza pietà finché non seppi più distinguere il bene dal male vogli conoscere i piaceri dei ricchi e mi abbandonai alla disalutezza per tentare di dimenticare di nascondere a me stesso il mio male E sarà Anna Magnani ricevere quel bacio grande grande amica professore questo film viene presentato anche alla prima edizione del festival di Cannes è un film perfetto è un film dove lui esprime a 360 gradi tutta la sua qualità di attore anche fisicamente parlando insomma bello bellissimo bravissimo io avevo chiesto di mettere un titolo sopra questa puntata Amedeo Nazari due punti bellissimo e bravissimo poi non si fa insomma sarebbe stato un po' troppo riduttivo però un grande film sì un grande film che testimonia come Amedeo Nazari abbia partecipato anche della stagione del neorealismo con questo film e con un giorno della vita di Alessandro Blasetti in realtà Nazari in quel momento anche qui è un reduce che si trova in difficoltà in quell'Italia del dopoguerra in un giorno della vita è un capopartigiano cioè qualcuno comunque attraverso il quale è curioso un po' come succedeva con Sordi potremmo leggere anche la storia del nostro paese attraverso le sue interpretazioni anche la storia di un altro italiano Amedeo Nazari ha attraversato veramente 40 anni perché lui inizia nel 36 poi l'ultimo film lo fa nel 78 che in qualche modo sono per il nostro paese anni di profondi stravolgimenti se tu pensi la dittatura la guerra il dopoguerra la ricostruzione il boom gli anni di piomba ecco Amedeo Nazari con il suo cinema attraversa questo lungo periodo e offre una maschera al pubblico italiano che si affeziona perché poi diceva Amedeo Nazari che il suo modulo interpretativo mirava a conquistare la simpatia del pubblico ma questo naturalmente non è qualcosa cosa di facile Evelina questo ecco non è per niente facile perché sì io questa è una parte che critico un po' nel senso che lui ha rischiato un po' di forse anche si è un po' fossilizzato perché ha fatto di tutto perché ha fatto di tutto però un po' questa paura di affrontare certi ruoli più aspri più non voglio dire di cattivo perché è banale ma più contorti non glieli offrivano e Amedeo Nazari era come Gary Cooper non poteva fare il cattivo Evelina chiedo perdono però l'ha fatto sì lo so che l'ha fatto tu sei un'attrice stupenda sei sua figlia ma insomma ma tutti l'avrebbero voluto non solo come vicino di casa non fatemi dire oltre per evidenti motivi ovviamente che si fosse stato egli libero da legami perché era bello come il sole ma perché era proprio buono per esempio nella cena delle beffe non è buono per niente non è buono per niente però rimane infatti la cena delle beffe se ci penso trovo anche qualche altra cosa c'è anche un film che si chiama Un marito per Anna Zaccheo di Giuseppe De Santis dove lui fa veramente un personaggio spregevole esatto meno male meno male che ogni tanto l'ha fatto e sapete che vi propongo io le notti di Cabiria Federico Fellini grande Amedeo Nazari sì lo so sapeva fare anche il cattivo due a uno vincono loro andiamo e che c'è l'occhio Jesse Jesse ma com'è possibile Alberto Nazari Jesse Jesse guarda che non ho voglia di arrabbiarmi eh Jesse la vuoi piantare di lasciami non farmi imbestialire sai torna dentro mi dai le chiave torna dentro non farà la cucchia non t'azzardare sai non mi mettere le mani addosso porco tirati in là tirati in là fammi posto ma dove vai dove è che vai di insomma queste chiavi me le dai sì o no no sta qui ti dico che non c'è e lasciami mi fai male lasciami Jesse senti cara senti un po' te lo dico per l'ultima volta basta non abbiamo più nulla da dirci mi hai stancato hai capito mi hai stancato lasciami che mi rovini la pelliccia è roba mia via allora Oscar migliore film straniero e c'è Medeo Nazari c'è Medeo Nazari che fai non è la sola volta che gli capita praticamente se stesso qui chiaramente il nome è cambiato contesto attenzione attenzione se stesso se stesso nel senso di un attore no popolare il prototipo del vivo faceva il prototipo del vivo però gli era già accaduto in un film che si chiama Apparizione lì faceva proprio se stesso nel 43 con Alida Valli e lo farà anche in un film di Maurizio Costanzo dove praticamente lui sarà colui che deve istruire un giovane attore che è Enrico Montesano che deve interpretare un film alla maniera dei melodrammi alla maniera del nostro del nostro Amedeo Nazari allora Evelina è suo papà Evelina Nazari è giovanissima subito bravissima attrice sì no le siranote per Gerac io l'ho visto ed eri bravissima ti ringrazio e basta e non ne parliamo più ero molto immatura ero molto immatura però ho imparato ho imparato e papà come prese? che biglietti ti mandava? c'è un biglietto meraviglioso che papà ti manda purtroppo lui si è ammalato quando io ho cominciato a fare l'attrice o meglio io ho cominciato a fare l'attrice e lui si era appena ammalato e quando gli dissi mi hanno proposto mi hanno fatto un provino mi hanno preso per Rossana sgranò gli occhi e disse ma non è possibile perché è un ruolo da attrice consumata tu hai 19 anni mi hai fatto dico sì hai ragione ma mi hanno fatto un provino cosa devo fare devo rifiutare ah no i treni si devono prendere perché non si lasciano scappare e venne a vedermi alla pergola di Firenze con il bastone eccetera quando io feci l'ospetto perché la tournée fu lunghissima tutti i teatri più belli cioè veramente un'ubriacatura fu per me perché non avevo mai fatto niente insomma ancora e purtroppo quando lo spettacolo arrivò all'argentina e lui mi scrisse un biglietto e stava in ospedale dicendomi nella tua città questa sera sono l'unico a mancare ed è un sì non riesco neanche è stato struggente purtroppo non siamo mai riusciti a confrontarci sul lavoro perché poi lui se n'è andato dopo poco niente quello che ho dovuto la cosa sicuramente che risalta di più è la professionalità quella me l'ha trasmessa senza neanche dirmelo perché avevo capito che questo era un lavoro e che si faceva seriamente che non era un gioco perché un giorno uno si sveglia e l'hai capito molto 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 bene Amedeo Nazari farà farà televisione farà carosello farà televisione e alzi la mano chi non abbia fatto parte del partito di Pugaciov per principio perché c'era Nazari quindi avesse fatto qualsiasi cosa noi tutti quanti ci saremmo spostati su quello che Nazari faceva e diceva un'eredità l'ha lasciata tu questo lo racconti benissimo nel tuo memoria Brandelli esce fuori da ogni pagina in realtà ha lasciato l'eredità di fare questo lavoro per chiunque voglia farlo con dedizione passione mettendo sempre il pubblico al centro dell'attenzione ricordando che è un lavoro è un lavoro molto serio ci si deve preparare lui mi racconta mi diceva devi sempre pensare al personaggio a tutto quello che ha fatto prima quello che non si vede tu te lo devi raccontare dove è nato se non si dice nel film nel film o nella commedia tu devi immaginare quello che questo personaggio è stato i suoi genitori che infanzia ha avuto è proprio la costruzione è solo così riesci a raccontarlo arrivare a costruirlo il personaggio dunque ci sono anche le critiche ovviamente Amedeo Nazari manda un telegramma ad Evelina dopo una critica negativa che Evelina aveva ricevuto e scrive il più grande successo sta nel superare la paura di non avere successo baci papà Evelina Evelina Nazari in questo libro racconta tantissimo di sé ed è un libro tutto da leggere ha superato ha superato tante cose Evelina Nazari l'ha fatto con con un coraggio e con una forza e che sono degne del miglior personaggio raccontato da suo padre al cinema il miglior Amedeo Nazari ha forgiato Evelina sua figlia senza dimenticare la mamma grazie di essere stata con noi grazie infine rimane rimane con noi abbiamo i nostri occhi mi fate piangere però così abbiamo i fazzoletti siamo armati abbiamo tutto Evelina Nazari grazie di essere stata con noi il professor Melelli rimane in nostra compagnia